C'è il numero 165 C'è il numero 165 Musicolonna, hai battuto Luca Zullo e non è una doppietta perché questa volta corretti in due squadre diverse Certo, oggi è stato bellissimo, il treno eravamo in due e abbiamo fatto prima i terzi, meglio di così non poteva andare La squadra ha lavorato perfettamente, oggi sempre in fuga, sempre davanti e come ripeto meglio di così non poteva andare Una vittoria giunta dopo pochi mesi al passaggio nei direttanti, questo significa che il duro lavoro ha pagato Sì, ha pagato molto il lavoro dell'anno scorso, tutte le corse nazionali che ho fatto Quest'anno, anche se da solo a casa, però mi sono allenato bene e sono arrivato fin qua, quindi è stupendo Caduta, prima dell'ultima curva ed è un uomo palazzato È il numero 165 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti